Siamo al confronto tra il Carl Zeiss Jena e il West Bromwich Albion, ha vinto la squadra della Germania Democratica con il punteggio di 2-0, un gol per tempo con il quale la formazione di Birmingham è stata superata. Ha realizzato nel primo tempo al 36esimo il gol d'apertura Shlufase. Il West Bromwich Albion risente ancora evidentemente, ecco il bel gol da lontano di Shlufase, la palla colpisce il palo e poi rimbalza il rete. Evidentemente la squadra del West Bromwich Albion, indipendentemente dalla difficoltà dell'impegno contro il Carl Zeiss Jena, risente in qualche modo dell'assenza di Cunningham, ceduto durante la stagione estiva al Real Madrid, dove sta figurando benissimo. Molto soddisfatto Shlufase recupera la sua posizione, l'1-0 alla fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo hanno l'opportunità di raddoppiare con questo spettacolare calcio di punizione i giocatori della formazione del Carl Zeiss Jena. Non ci riescono, ma poco dopo Lindemann dalla parte opposta riuscirà a concretizzare un'analoga situazione, ancora con uno splendido tiro ad effetto. Il 2-0 a favore del Carl Zeiss Jena sul West Bromwich Albion.